Sì, grazie, grazie Fabio per la linea. Ci troviamo qui al Palazzo Santa Filomena di Chetiscalo, teatro domani alle ore 18, si gioca all'anticipo, diretta su Sport Italia, ingresso libero del derby, l'unico derby abruzzese tra Civitella, Colormax e Acqua e Sapone Unigrossi, in compagnia dei due allenatori, Saverio Palusci alla mia destra, quel piacere di ritrovare dopo qualche tempo, perché insomma ci si vedeva spesso sino a qualche anno fa, e naturalmente Tino Perez, grazie ad entrambi, io direi di cominciare con Tino Perez, visto che insomma loro sono ospiti, no Saverio, va bene? Sì, come no, come no, certo. Tino Perez, allora, è un nuovo inizio, è chiaro che quello che è stato fatto rimane, però bisogna cancellarlo, no? Totalmente, per noi che comincia l'anno comincia una nuova illusione, comincia un nuovo retto, un nuovo oggetto per questo ritorno, l'andata è finita e adesso dimenticiamo tutto. Bisogna dimenticare tutto, c'è questo derby, come ci si avvicina, ci si approccia il Civitella Colormax, Saverio? Beh, sempre il derby, come sappiamo, è sempre molto sentito, è stata la nostra, l'andata è stato il nostro esordio in Serie A, sinceramente all'andata eravamo molto emozionati e abbiamo secondo me pagato anche lo scotto di questa emozione. Noi siamo cresciuti, loro sono cresciuti. All'andata era la prima partita, ormai ne abbiamo fatti abbastanza per avere la consapevolezza che ce la possiamo giocare con tutti quanti. Non c'è dubbio, ecco, Tino Perez la pressione, lo possiamo dire, è tutta sull'acqua e sapone a questo punto, no? Ma voi ve la prendete perché ormai, insomma, siete abituati. Tutti le squadre abbiamo pressione, non solo noi. Chiaro che in questo momento, dopo la classifica, siamo primi e è normale la pressione, però è una buona pressione, no? La pressione per vincere è sempre buona. È chiaro che il Civitella Colormax ha tutto da guadagnare da questo derby e nulla da perdere. La mettiamo così o non è proprio così? No, non è così, non è così. Non è così perché se dobbiamo fare questo ragionamento come oggi, domani affrontiamo l'acqua e sapone, ma poi affrontiamo il Rieti, ma poi affrontiamo il Napoli, allora per il Civitella se è sempre così non ci salviamo. Quindi basta, basta, non possiamo prendere più alibi che loro sono più forti o un'altra scuola è più forte. Se dovessimo perdere con l'acqua e sapone, perdiamo perché l'acqua e sapone è stata più forte domani e basta, non perché è più forte come valore assoluto. Ecco, voi state disputando un campionato senza dubbio in linea con le aspettative perché siete una matricola. Ecco, se potessi, chi toglieresti dell'acqua e sapone unigroso? Praticamente tutti. Mi fa impazzire Coco. Coco mi fa impazzire. Voi siete come la Juventus nel calcio, siete cannibali, 19 vittorie in 22 partite, però lei non si accontenta, vuole fare di più. Penso che l'importante non è vincere, sino continuare a vincere. Adesso ci alziamo l'asticella, alziamo. Il giocatore ha cambiato tanto la sua mentalità e per me è molto piacere guardare tutte le partite perché loro hanno una voglia, un coraggio per vincere e io solo posso applaudire. Che consiglio si sente di dare a Saverio Palusci? È una sorta di questo derby tra allievo e maestro, se vogliamo, perché lui allena da un anno e mezzo, già ha vinto parecchio perché ha vinto il campionato di A2, prima da giocatore in B, adesso allena in Serie A1. Insomma, ha fatto già tanto. Penso che per me un allenatore è un maestro, un professore ha di portarsi o di comportarsi più o meno così. Le piace? Sì, sì. Bravo, è promettente. Molto bravo. Molto bravo. Insomma, belle parole da parte di un maestro come Tino Perez. Assolutamente, assolutamente. Abbiamo la fortuna qui in Abruzzo di aver avuto per anni Fulvio Colini, che per un tipo di gioco è un maestro. Abbiamo avuto la fortuna di avere ora lui, che applica un gioco completamente diverso. Noi ce lo godiamo ogni giorno. Spesso non rimaniamo a vedere gli allenamenti d'Acqua e Sapone, più per rispetto perché è comunque un avversario, ma se io potessi veramente mi accoderei quasi ad ogni allenamento per trarre tutti i consigli, tutta la sua esperienza. Che sia soprattutto una bella partita nel segno del rispetto, ma questo ci è sempre stato tra le due società. Io ringrazio Saverio Palusci, allenatore del Civitella Colormax. Ringrazio naturalmente anche Tino Perez, allenatore dell'Acqua e Sapone Unigross. Ecco, una bella stretta di mano e che vinca il migliore. È tutto. La linea può tornare a te, Fabio.